bene ragazzi eccoci con un nuovo episodio di talus of arise allora io dovrei proseguire molto probabilmente poi vi farò un video direttamente con il finale nel frattempo ogni tanto bisogna formare la squadra altrimenti sembro già basso di livello rispetto alla storia perché sto a 18 se ne mostri ormai stanno a 21 a me stanno esauriti questi quindi vedi pure il gioco tende a farti fare i combattimenti se no quindi sono a livello 20 sono a livello 20 quindi ne stiamo già bassi ho visto proprio che caricava dai vai mannaggia ci siamo persi il coso niente ah questo che gli intendono loro? le fai di fila? allora questo è di cosa? devo mettere una di vento assolutamente ora ce l'ho già questo ce ne abbiamo un altro quant'è la serie? è una missione? oh si è aperto un'abilità mi sveglio del lupo argentato salti in aria ok vediamo che altro ho eh vedi verde si serve di vento schivata pure questa eh io direi di fare prima l'arte però faccio fare pure questo perfetto perfetto gli altri 900 ah perfetto questo mi mancava per completarlo 960 ah poco ah aspetto questo è assai non esiste 200 100 mi vuole finire questo almeno mi fa di aumentare la difesa alimentare dovrei farcela si ok perfetto quindi questi cosa tutti mancano gli ultimi perfetto 19 è buono e allora ragazzi io mi farò un bel po' di questi 18 dei passaggi di livello perchè qua secondo me a minimo dobbiamo stare a 20 minimo acqua qua ci vorrebbe il fuoco ma fammi fuori a me il coso lui io voglio il coso sta facendo tutto lui io non sto facendo niente ma è snervante e questo è andato solo uno ah vedi c'è un punticino con uno ah ah ma Oh Ok, questo è uno. Qui stanno le mostri. Andiamo a andare girando per cercare i mostri. Qui stanno. Oh. E' un po' che c'è da farlo. Oh, che è questo? Chi è? È arrivato in basso. Aiuto. Qu'è? 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 Grazie a tutti! Questo qua quando c'ha 26 di fuoco, quindi devo fare attacchi di acqua, vediamo se c'ho altri di acqua. Mare è muto, freccio urlando, no, era quella di prima. Un sacco d'acqua, è di duro. Grazie a tutti! 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 fiore astrale ora è magico il credente incrementa di 10 punti pc massimi l'energia astrale cristallizzata rinascente vabbè mi ha fatto penare le fine dell'inverno sostenza niente è un mardente che mi do terrati vediamo che altro da riscadescio lama fiumeggiante ma la mia fiumeggiante non lo posso usare non ce li ho io penso che devo andare a mangiare ecco andiamo a mangiare lontana da tutti visto ma cosa per riposare mamma mia ecco 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 Oh, shoot! What the? Is the enemy attack... Sorry about that. Law? What am I doing? Train? I found these nice and heavy rocks that I decided to strap onto my arms, but I guess I... So you were doing improvised weight training? You and your cri... I can't help it. If I'm not training, it's easy. Well, that's fair. Actually, I remember seeing... Yep. No amount of muscle will do you any good if you don't stay on... Sounds to me like you have too much pen... Non train so hard that you wind up hurting yourself, Law No, I'm not You never know what we'll run into Besides, I won't rest until I know that I'm strong Oh, I see how it is Well, I don't plan on letting you beat me Hmm, maybe I'll add some weights to my soul Alpen, are you crazy? You're right This does make for decent training Right? Since we've already come this far What do you say we have a little one-on Hell yeah I'm okay Come on Take this I'm just getting started È volato Carina sta scena Vediamo che missione c'ha Dorme? È morto Eh, infatti Dove lo dobbiamo portare? Sei una specie di scorta Ho, 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 ho Oh, che dobbiamo fare, che dobbiamo fare? Rancho, dobbiamo allevare bestiame. Oh, Diggis è bloccato. Vediamo che mi se ne dà. Oh, non so, tagliare sveglio, recupero bio. Vediamo che devo fare. Che si fa qua? Sì. Sì. Alleva bestiame. Via alla stalla. Mucca. Ok. Mangime. Poi qua ci mettiamo il maiale. E che ne so, che fa? Dimensioni del maiale. Eh sì. Ok, pollo. Che facciamo il pollo? Non basta, non abbiamo tutti questi soldi. Ok. Ok. Poi, sorveglianza bestiame. Metti la guardia. Ma guardia, non c'è niente. Non mi fa mettere nessuno. Soltà spiegazione. Oh, questa l'ho già vista. Eh, ok. Eccolo. Darno. E' giallo. Come lo dovrei vedere? Ah, questo è il ponte che abbiamo fatto prima. Come fare quest'altro lato che non ho fatto? Eh, ma sto lava quando ne sta sviluppando? Recupero. Eccolo. Cattolo. No. Si, potremmo? Cattolo. Penso. Ci spero. Di evo. Cattolo. Poi, potremmo? insele. Cattolo. 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 Unire. Unire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vabbè, si sente in colpa per la morte del padre, giustamente. Ha potuto morire lui. Ma io direi... Che ne possiamo andare. Ad occhio sembra l'unico pesa che se la portano bene come regime. Quindi convivono. Eppure dovrebbero sfruttare lo stesso potere astrale. Astrale. Oh. Mi fa attivando del benessere. Cosa? No, no. Ah 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 ah, Shionna, ammazziamo lo stesso il Lord. Chi se ne importa? Dobbiamo parlare. Quindi sono comunque schiavi, però vengono pagati. Ok. Grazie. 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 eh dai alcuni animali non l'ho visto dove sta? vediamo a che parte non lo vedo eccolo stava giù lo cercavo in alto quindi lei dovrei fare andare all'arena ma prima volevo parlare con la gente no, di qua è troppo grande sta città mi perdo vediamo che dice questo va bene questi sono schiavi ricchi e stanno bene abbiamo capito ah ok questa è l'arena fammi salvare vediamo come è sta arena ah quindi solo venendo qua ha completato la missione interessante quindi questo è per superare il limite ma uso lui perché lo so usare poi gli altri li faccio con vediamo che fa tempo completamente record 3 minuti ti danno tutta sta roba ah però vediamo quindi 19-21 di livello e dai mi sa che non ce la faccio grazie a dio c'ho il limite sto morendo grazie partito partito per la tangente ho superato il tempo che succede quindi finisci uno te ne riprendi un altro ok sono morto interessante sta cosa ho capito ho fatto schifo a livello consigliato 25 quindi io devo aspettare questo è il principiante 25 40 avanzato addestramento alf 20 posso fare questo faccio mh You've got spirit! Go to hell! Dragon Swarm! Slash the shock! I won't show you any mercy! Raining slash! Dragon Swarm! Slash the shock! Blow away! Raining slash! Blow away! Raining slash harder! Dragon Swarm! Take this! Slash the shock! Blow away! Raining slash! Dragon Swarm! Slash the shock! Here I come! Blow away! Dragon Swarm! Slash the shock! Scusa! Ma l'arte che mi fa il coso! Non era questo? Sì! Perché non me lo fa? Non me lo fa! Slash the shock! Slash the shock! Slash the shock! Comunque questo è coso? 21! Ah è quante ma', pratica madora! Ma me lo potessi sbloccare il limite! Ok! ok 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 it's clay A open yay Grazie, non l'abbiamo fatta. Beh, comunque qua devi salire di livello. Addio. Non ho capito che stava scritto. Perché devo andare alla fattoria. La fattoria, devo mangiare. Vediamo che dicono i bimbi. Tante cose pesanti e pericolose. Cosa è che le trasportavano? No, quest'altro che è morto. Ah, questo dovrebbe essere di nuovo quello che cucina. Speriamo che ho già gli ingredienti, così mi sblocca direttamente la ricetta. Cosa? 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 Carne di manzo per due. Non ce l'ho là il manzo? Sembra strano che non ho il manzo. Carne 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 carne. Carne di manzo. Ah, bene. Ne ho solo uno. Carne di manzo ne ho solo uno. Carne di manzo ne ho solo uno. Carne di manzo ne ho solo uno. E che ci sta di qua? Dove mi fa andare? Ok. Cosa? 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 Cosa ce l'ho lo soo? E quindi cosa. Cosa? Non c paint da utmost? Facciatori di taglia. Oh, guarda, va, gli stanno uscendo tutte ste abilità a gogo. Ok, quindi questa l'avevo già sbloccata perché l'avevo fatto fuori qualcuno. Ah, quella al lato era quello che ho stracciato che era uscito dopo che ho fatto tante volte. Ok. Non ho niente. Non ho oggetti da darmi. Ecco, carne di manzo. Perfetto, torna l'indietro. Stavo a girare per la città e trovo la carne di manzo. Ok, dammi la ricetta. Ma che ricetta mi fa? Sì. Sì. Credo. Non mi credo. Non mi credo. Ótimo! Molto figato! Cosa? Credo che... Oggi ok? Stufato di manzo. 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 sapevi qualcosa, no? Vabbè. Andare? Ma non mi fanno andare. Perfetto. Vediamo di qua se mi fanno andare. Vediamo di qua. 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 di qua. vediamo 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 di qua. di qua. vediamo 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 di qua. vediamo. vediamo. vediamo di qua. vediamo di qua. è un rancho. e quindi. che faccio anche carne di manzo di maiale carne di pollo capito finalmente what is it I found an ingredient for that new recipe I think someone's calling out for us hmm hey what's wrong hmm why is this happening damn it I guess got it what the yeah qua Ok, abbiamo finito la missione. Ok, hai? Ok. Ok, allora... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Allora, ragazzi. Per adesso concludo qui il video. Se vi è piaciuto mettete un like. Se vi interessa proseguire la storia, iscrivetevi al canale. Ciao, ciao.